Certo, ci crediamo, certo ce la faremo, ma io non ci credo, io non ci credo assolutamente, anche se ero uno degli unici che dicevo che Catania si salvava, a questo punto non lo so, mi sembra più difficile, hanno perso parecchie e parecchie possibilità. La partita della vergogna, ora ci penso a fare quattro gol. Oh, senza dignità, senza dignità, senza dignità, senza dignità, senza dignità. Forza Catania, ci crediamo, ci crediamo, speriamo. Domenica si vince col Bologna e poi l'ultimo scontro con l'Atalanta, 1-7, giusto? Forza Catania, forza Catania, forza Catania, forza Catania, il senso che se non perdevamo col Torino ci salvovamo. Si continua a sognare, va, che bene poteva fare tante cose quest'anno. Una bella squadra veramente, hanno giocato molto bene, effettivamente se giocano così a Bologna possono anche vincere. Ma secondo lei c'è ancora la speranza allora? La speranza ancora c'è, prego. Forza Catania! Quattro a casa. Allora, 4-1, che senso ha questo risultato oggi? Eh, ha un senso che tutto quello che abbiamo buttato in questa stagione non si può capire. Batti la seconda in classifica 4-1 e poi pareggi 3-3 in casa con Livorno, non batti il Torino, insomma, troppi punti persi. 4-1, che senso da vincere oggi? Il senso che per un'altra settimana sono illuso e forse mi costerà tanto, che forse sono andato a prendere il bigliettario per Bologna. Dobbiamo vincere a Bologna, a Bologna dobbiamo fare risultati e quest'anno non abbiamo vinto neanche una partita fuori casa. No, non ci crede, la mia testa non ci crede. Ma io e tutti è possibile, nei miracoli si può salvare, perché l'Atalanta non c'ha più niente da vedere. Gli abbiamo ritornato i 4-1 gollo. Ma ha un senso di rinunci nei confronti di una squadra che ci odia e spesso ci ha fatto delle goleate. Speriamo che abbia un senso per la salvezza. Adesso dobbiamo dare continuità a Bologna, se non facciamo risultati a Bologna è inutile. Ma se comunque sia, dovesse perdere il Sassuolo con la Fiorentina e poi noi andremo a vincere a Bologna, praticamente dovremmo essere salvi perché poi i problemi con l'Atalanta non ce ne dovrebbero essere, quindi alla fine dovremmo salvarci comunque. Grazie Roma, ci salveremo, ci salveremo! Catania, ci salveremo! Dai Catania, vai! Allora, con sofferenza allo stadio, 4-1 contro la Roma, che significato ha questa vita? È bellissima, bellissima! Forza Catania! Noi si chiamo Forza Catania! Forza Catania! Forza Catania! Forza Catania! Grazie a tutti.